no vai ho paura ho paura ho paura fai già aperto fai guarda l'ho fatto hai visto se mi partisse il taglierino sotto sono cazzi tuoi no vado vado c'è anche la maglia hai presa 2 no però se vuoi si può fare non 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 oh ora si Grazie Ho il video della visita per distribuire con Fuzzle E ora il testo forte E' leggerissima E' la riuscite la riuscita E' soppeggiare una nuova Alfa wow è in oro è un uomo una toncina alla fine aspetta perchè? vuoi vestirti in diretta da solo? no adesso volevo solo un attimo provare si dai dai una mano metti in pausa il cuore si stoppa fatti vedere non ha neanche il problema di aprire le botte forse non parlano ah ma stai facendo video? eh ah ma ma allora eh si questo non spaventi più i bambini no? no no perchè è buono non sembra neanche tu è questo il fatto perchè? non sono più abituato cazzo l'ho fatto in verticale no no hai girato? aspetta anche la bestemmia in video adesso hai detto che l'hai fermato ma l'ho fatto anche ripartire vabbè lo cancelliamo dai su fursuit che parla e dice bestemmia in italiano eh 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 non si dice cancella però te dovresti anche sapere usare sei un programmatore o no? no ecco primo incidente cucina muoviti fai la coda eh? la coda la coda eh si dillo su canta no quella è magica trippi no cazzo adesso anch'io lo voglio di careglia vai a cagare hai fatto qualche foto? si manda video foto vera si te le sto facendo raffica dopo le cancelli tu è un video o foto? tutto chiamare man macchina cario lì 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 è lì Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.